Al parco commerciale Le Fontane arriva il Black Friday, il famoso venerdì nero. Sconti eccezionali, ha un numero limitato di articoli. Venerdì 17 luglio è Black Friday, le occasioni da prendere al volo con sconti extra dalle 22.30 all'1.30. Scopri nei giorni precedenti gli sconti e gli articoli in promozione. Le Fontane, Black Friday, tre ore di sconti shock. Venerdì 17 luglio dalle 22.30 all'1.30.